Ecco quale meravigliosa liturgia della parola ci accompagna in questa festa così centrale, compimento della Pasqua. Non dobbiamo mai dimenticare che il vero scopo della resurrezione di Cristo non è la sua propria resurrezione, ma la nostra resurrezione, la nostra rigenerazione, il nostro vivere secondo la vita nuova, secondo il cielo, e questo è il dono dello Spirito Santo. Non è la fine del tempo pasquale, ma il fine del tempo pasquale, che noi siamo ricettori della vita di Dio. Ecco, questa cosa qui però che forma ha? Dobbiamo smontare alcune visioni, per esempio la prima lettura è il raccontore proprio della Pentecoste, perché logicamente la Pentecoste non viene narrata nei Vangeli, viene narrata negli Atti degli Apostoli, anche se nella Vangeli di Giovanni noi avremo la chiave giovannea della Pentecoste e vedremo quanto è bella. Ma se andiamo a vedere, noi siamo tendenti un pochino a leggere questa storia della Pentecoste come questo dono strepitoso, meraviglioso, queste arrivano, lingue di fuoco che arrivano dentro di loro, è una cosa che cambia tutto, e questi escono e hanno il traduttore simultaneo, automatico, ed è favoloso perché questi parlano e tutti capiscono. E noi ci fermiamo un pochino a questa immagine, questo dono di parlare e niente, è abbattuta la frammentazione di Babele, quando l'uomo ha perso il linguaggio comune, quando l'uomo ha perso la comunicazione, quando l'uomo ha perso la relazione, la comunione, non parliamo più stare in una casa, ma parlo italiano o cosa? Dice una persona per dire, ma com'è che non mi capisci? E fra marito e moglie non ci si capisce, fra uomini e donne non ci si capisce, fra genitori e figli e tutte le spaccature delle nostre incomunicabilità, allora finalmente ci capiamo. Attenzione perché questo è un po' incompleto come modo di approcciare la storia della Pentecoste, perché qui vediamo che tutti quanti ascoltano, ma ascoltano che? Cioè tutti capiscono i discepoli, non è proprio questo il punto, che questi dicono che ore sono in aramaico e quello lo capisce nella lingua dei parti, dei medi, degli elamiti o della Mesopotamia. No, siamo della Frigia, della Panfilia, della Libia, romani, giudei, proseliti, credesi, arabi e gli udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. È l'opera di Dio quella che ci mette in comunione, non le nostre comunicazioni da quattro soldi, non le nostre informazioni che possono essere molto inconsistenti o per quanto importanti per noi, forse non importanti per l'altro che ci ascolta. Le opere di Dio. La comunione è un'opera di Dio, non è una nostra abilità. Quando noi parliamo di noi stessi, eleviamo i muri della comunicazione. Quando parliamo di Dio, che è nostro padre, quando parliamo delle sue opere, di come lui opera, ecco che può capire anche qualcuno che è molto lontano, qualcuno che è molto diverso. Le opere di Dio, che sono grandi. La Vergine Maria è la cosa di cui parla e il suo vero discorso è il Magnificat. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Che cos'è che mi sdogana finalmente dall'essere una persona che quando parla non sa veramente comunicare? Quando non parlo più del mio ego, quando non parlo più di me stesso, quando sono finalmente smarcato in un altro livello, quello che è la fonte della gioia, della vita, l'amore. Se io parlo di me stesso, ma che cosa vuoi che importi all'altro che ho davanti? Ma se gli parlo di quello che salva me e salva lui, di ciò che ci unisce, di ciò che veramente è proficuo, è vitale, è valido, è potente, è grande, allora sì, l'altro mi ascolta volentieri. Quante volte tocca sentire anche i predicatori che alla fine parlano di se stessi, parlano di fatti propri e alla fine glorificano se stessi, cercano se stessi, si servono di Dio per parlare delle proprie opere. Quante volte anche noi come Chiesa cerchiamo di voler essere apprezzati, ammirati. Non dimentichiamo che nel capitolo quinto del Vangelo di Matteo si dice che se noi siamo luce del mondo è perché gli uomini vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre, non noi, il Padre. Cosa sono queste opere dove un altro appare? Ed ecco che è meraviglioso. Che cos'è il vero dono dello Spirito Santo? Giovanni lo presenta nel giorno stesso di Pasqua, lo presenta in nuce, nella sua radice. Cosa vuol dire ricevere lo Spirito Santo? Ricevete lo Spirito Santo, dice Gesù in questo Vangelo. Ossia a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati e a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Altre volte, da questi microfoni, ho già spiegato questo testo. Non vuol dire che io sono il possessore del perdono di Dio. Adesso spadroniggio il fatto che venga dato non dato il perdono di Dio. A te ti perdono, a te invece guarda un po' tu. No, non è questo il punto. È ben altra frase quella che dice il Signore Gesù. Dice a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, ma se voi non lo farete, chi potrà portare il perdono che vi sto dando io a voi? Se voi non perdonerete i peccati resteranno non perdonati. I peccati resteranno senza l'esperienza della redenzione. Questo è il cuore di un evangelizzatore che capisce che lui ha qualcosa da portare, che se non lo porta lui non lo porterà qualcun altro. Non lo porteranno libri o teorie o filosofie. Lo porterà solamente l'esperienza di una Chiesa che ha lo spirito del perdono. Ma qui focalizziamo il punto. Che cos'è il dono dello Spirito Santo? è il dono del perdono. C'è un gioco di parole un po' povero, però significativo in italiano. C'è l'iperdono. Lo Spirito Santo che è il dono è la capacità di donare. E il dono vero si ha nell'iperdono, cioè nel perdono. Quando a una persona, più che regalargli cose, denari o non so cosa altro gli si può donare, gli si dona la liberazione dalla sua propria povertà, che è questo. Solamente Dio può fare. Dio solo può perdonare i peccati. Ed è vero. Solo Dio ha potere su questo materiale così difficile che è il nostro cattivo uso della libertà. Ed ecco, lo Spirito Santo agisce lì, sull'errore dell'uomo. Ricevere lo Spirito Santo non vuol dire essere capaci di dire chissà che cosa, saper fare atti meravigliosi, dare il proprio corpo alle fiamme, essere capaci di opere magniloquenti, conoscere tutti i misteri, dice San Paolo nel capitolo tredicesimo della prima lettera ai Corinzi. Ma avere l'amore, che è il perdono, è il perdono la cosa più urgente. Per il Cristo risorto, la prima cosa di cui lui parla riguardo della missione che ha da dare è perdonate i peccati, che questa è la cosa più seria, più grossa. Che la gente conosca la misericordia di Dio è molto più importante che mille strutture da costruire.